Il 6 e il 13 appunto di novembre vi aspettiamo a Cartoceto nella Kermess dell'Oglio Verde. Anche quest'anno tante novità ma cureremo sempre comunque la tradizione, quindi sicuramente ci sarà lo stand dei produttori in piazza che vi aspettano con tutti i prodotti di qualità e a chilometro zero. Ci saranno le degustazioni in piazza sempre Garibaldi con Food Brand Market e il consorzio dell'Oglio Dop che ci faranno conoscere un pochettino meglio l'Oglio Nuovo e anche ci impareranno a riconoscere l'Oglio Dop Cartoceto da quello non certificato. Quindi anche qui un appuntamento importante. Poi avremo come sempre i sentieri verdi, quindi le passeggiate in bici e a piedi. Avremo gli autoraduni, i motoraduni che ci verranno a fare visita come tutti gli anni. Immancabile gli spettacoli a teatro. Anche quest'anno avremo grandi artisti che arricchiranno il nostro teatro. Il coinvolgimento degli istituti, sia gli istituti superiori che il nostro istituto Marco Polo di Cartoceto. Avremo una novità, quest'anno ci sarà il profumo all'Oglio Dop Cartoceto che ci sarà possibilità anche di acquistare durante la manifestazione e poi anche nei nostri locali di Lucrezia e Cartoceto. Lo chiamerei più un modello di sviluppo socio-economico di un territorio. D'altronde quello che è declinato all'interno di quel contenitore è tutto ciò che non soltanto è Cartoceto ma è il territorio della reale, della DOP, Cartoceto che ricomprende, ricordiamo sempre, anche i territori dei comuni di Fano, di Coglio del Metallo, di Monbaroccio. Questo racchiude, può esprimere e può ancora sicuramente sviluppare in termini potenziali. Ecco perché sicuramente l'essenza, l'anima, l'identità è da sempre rappresentata in questi 45 anni dall'eccellenza agroalimentare che è l'unica denominazione di origine protetta olearia di tutte le marche ma è per lo stesso motivo per il quale dal 2014 abbiamo appunto voluto costruire attorno questa formula festivaliera che fosse in grado di esaltare un po' tutti gli asset di interesse e di attrazione turistica del territorio stesso proprio perché possa diventare una declinazione del modello di sviluppo socio-economico che le marche hanno in testa.